Soffri di gonfiore addominale? Hai seguito i miei primi 5 consigli? Se sì, mi piacerebbe sapere com'è andata, quindi scrivi pure nei commenti. Eccoti ora invece gli altri 5 consigli che ti avevo promesso. Primo, mastica lentamente, questo ti aiuterà nel processo di digestione e ti farà sentire meno pesante. 2. Prenditi il giusto tempo per il pasto, almeno 20 minuti. 3. Mangia comodamente seduto, non in piedi o davanti al pc o con il cellulare in mano, altrimenti rischi di mangiare distratto senza consapevolezza e alla fine ti sembrerà come di non aver neppure mangiato e quindi avvertirai ancora fame. 4. Evita le bibite gasate durante il giorno e non masticare gomme. 5. Evita quei cibi che possono creare per natura gonfiore come rape, verza, cavolo, il cavolfiore, le cipole, i legumi, cibi molto ricchi di grassi come i fritti, i latticini freschi, poi non ne parliamo se sei anche intollerante. Poi ancora i dolcificanti assunti in eccesso, non dimentichiamo le caramelle, la panna montata, il fape e la maionese. Mi auguro che questo video ti sia stato utile. Ricordo sempre che se hai dubbi, perplessità, noi di Lebekri siamo sempre pronti a rispondere ad ogni tuo quesito. La consulenza serve proprio a questo, per capire se ti possiamo essere di aiuto anche a raggiungere i tuoi vettivi. Ti ricordo che siamo a Bravaggiore in provincia di Venezia. Ciao!